Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Una delle conduttrici più amate del palinsesto Mediaset è assolutamente Silvia Toffanin. Il suo modo dolce, ma deciso di condurre verissimo, ha sempre suscitato grande affetto tra il numeroso pubblico che la segue. Proprio il pubblico non aspettava altro che questa lietissima notizia che si sussegue ormai da anni ma che fino ad ora non aveva mai trovato conferma ufficiale, soprattutto per gli ultimi eventi accaduti. In questi anni abbiamo seguito anche la sua di vita privata, dalla nascita dei suoi bellissimi figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, alla sua storica relazione con Pier Silvio Berlusconi, un amore solido e duraturo che negli anni ha fatto sorgere la domanda, ma quando convoleranno a giuste nozze? Sappiamo tutti che questi ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per lei e la famiglia Berlusconi, soprattutto con la gravasi della malattia dell'ex leader di Forza Italia fino alla sua dipartita. Una perdita che non solo ha sconvolto il mondo dell'intrattenimento, ma ha messo la famiglia e i figli dell'imprenditore a dover gestire questioni altamente complesse e delicate. Durante il funerale di Silvio Berlusconi l'abbiamo vista tutti devastata dal dolore circondata dai suoi affetti più cari e da una donna in particolare che l'ha sempre sostenuta, Maria De Filippi, con la quale ha un rapporto meraviglioso di stima e amicizia e anche nel momento del dolore entrambe sono state sempre vicine. Proprio il rapporto speciale con Maria ha portato a delle novità meravigliose per la Toffanin, secondo quanto riportato da Bici, proprio la De Filippi la vorrebbe a tutti i costi alla conduzione della talpa, per un ritorno in grande stile del programma. Una notizia che riaccende gioia dei cuori sia dei fan, sia del suo compagno Pier Silvio. Un momento di festa dopo tanto dolore.